La nostra unica speranza non è Il vaccino che ci ha portato Trunks dal futuro Quello sti cazzi Il Super Saiyan Ha un posto la stessa loro vita in gioco per la nostra Tranne leggeta Che è una mezza sega Ora Goku sta facendo la sfera Genkida Ma ognuno faccia la parte propria Trasmettiamo al Goku l'energia necessaria Per sconfiggere definitivamente Freezer Io mi trasformerò Appena possibile In un Super Saiyan di terzo livello Il mondo è stato colpito duramente Dal Junior che ha scagliato bruscamente il suo Macan cosa può contro i paesi a noi vicini A lui rivolgo un ringraziamento Particolarmente intenso Perché non ha colpito l'Italia Ma quei brutti bastardi E poi Junior è fortissimo Fortissimo Ma non ho dimenticato Il gas ha acceso Non ho dimenticato Che reg devoted to E poi Il��legate Per Il Grazie